ben ritrovati con le news dalla camera di commercio a poche settimane dall'improvvisa e dolorosa scomparsa del presidente Renato Scapolan l'ente di piazza Montegrappa ha un nuovo rappresentante al vertice il consiglio camerale ha infatti nominato anzi ha proclamato all'unanimità nuovo presidente Giuseppe Albertini imprenditore del settore dell'elettronica appartenente all'ambito dell'artigianato Giuseppe Albertini ha subito sottolineato come la sua presidenza sarà nel segno della continuità rispetto a quella di Renato Scapolan nella stessa riunione questa settimana il consiglio della camera di commercio anche nominato e sempre all'unanimità anzi anche in questo caso con una proclamazione ha dicevamo ha indicato in Davide Grossoni imprenditore artigiano del settore legno il nuovo componente della giunta dunque piena operatività per l'ente di piazza Montegrappa che può affrontare le sfide che offre un sistema economico che deve fare i conti come ormai da tanti mesi anzi da qualche anno con le difficoltà che caratterizzano un po' tutto il mondo dell'economia occidentale in particolare quella del nostro paese ma per vincere questa sfida bisogna sempre più internazionalizzarsi come bisogna sempre più innovarsi sono questi due dei temi forti dell'impegno della camera di commercio a supporto del sistema imprenditoriale vi segnalo allora un nuovo appuntamento significativo il 15 di giugno via il progetto incoming buyer ovvero la possibilità per le imprese di incontrare degli operatori commerciali di altri paesi nell'ambito di un progetto che aveva preso il via con ottimi riscontri durante l'anno di Expo nello scorso 2015 si riprende il 15 giugno come già detto incontro con i buyer del settore tessile casa bene è tutto anche per questo nostro appuntamento non mi resta allora altro che ringraziarvi per l'attenzione che ringraziarvi per l'attenzione